Siamo con la dottoressa Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. Taranto Turismo. Speriamo che possiamo continuare a parlare di Taranto, perché ormai, alla luce delle scelte amministrative del sindaco Rinaldo Melucci, qui Taranto si è trasformata in Bari, abbiamo un vice sindaco barese, per cui, Irene Lamanna, qui siamo colonizzati, siamo ormai un appendice di Bari. Evidentemente Melucci ha subito politicamente i diktat di Emiliano. Questo è quello che effettivamente si legge dal comportamento degli ultimi giorni. L'unica cosa che possiamo sperare è quello di non diventare un'ennesima provincia o parte della BAT, Barletta, Andrea e Tani, poiché, insomma, essendo colonizzati appunto dai baresi, potremmo correre questo rischio. Fermo restando che mi giunge davvero strana questa notizia del vice sindaco e degli... De Franchi. De Franchi, che sicuramente sarà una bravissima persona e preparata, visto i titoli e il curriculum che presenta. Come magari ce ne sono tante altre. Come magari ce ne sono tante altre, abbiamo sicuramente sul nostro territorio altrettanti uomini della stessa età e della stessa calibro del dottor De Franchi, il nostro vice sindaco. Mi viene da ridere, non per De Franchi o da piangere, ma pensare che Taranto deve avere un vice sindaco barese. Melucci, sei partito malissimo. Ma non solo, tra l'altro non mi sembra che politicamente la giunta di Bari sia eccelsa o si distingua rispetto ad altre province. Pertanto il delirio di affidarci degli assessori o dei vice sindaci di Bari mi sembra veramente sbalorditivo. D'altro canto, con tutto il rispetto per De Franchi, se effettivamente fosse stato un genio amministrativo, penso che sarebbe rimasto a fare l'assessore o il vice sindaco a Bari. Evidentemente lo dovevano sistemare politicamente a Taranto. Beh, sicuramente, anche perché Bari ha bisogno anche lei di buoni assessori, consiglieri ed eventualmente vice sindaci. Quindi diciamo che questa scelta risulta e suona un po' strano agli orecchi dei Tarantini, ma anche dei pugliesi. E poi criticavano Cito quando nominò Gianni Ciardo assessore agli spettacoli. Ma in effetti Gianni Ciardo era un tecnico della materia e faceva ridere. Non so se De Franchi farà ridere i Tarantini o li farà piangere. O sì, o probabilmente correremo il rischio di andare ancora più giù. Come diceva in una sua battuta Beppe Grillo, i cinesi raschiano il fondo e poi escono dall'altra parte dell'oceano. Quindi chissà noi dove usciremo. Grazie. 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 Grazie.